Siamo tutti colpevoli di quello che è accaduto. Qualcuno ha violato la privacy di Tony. Io so sempre tutto. La conoscenza è il suo prezzo. Un cellulare? Oggi le nostre vite sono racchiuso dentro questo dispositivo. Ogni ricordo, ogni segreto, ogni contatto. Cosa acquistiamo, perché lo facciamo. Cosa desideriamo. Ah, non ti conviene? Ogni volta che non è con noi ci sentiamo persi. Politica e malavita sono due facce della stessa medaglia. Grazie. Grazie. Grazie.